Stesso giorno, stessa ora e quasi stesso luogo. Ad Arezzo due iniziative si sono infatti svolte contemporaneamente sulla Multi Utility Toscana che è stata costituita a Firenze lo scorso gennaio allo scopo di poter gestire congiuntamente acqua, luce, gas e rifiuti di tutta la regione. Noi stiamo valutando il nostro ingresso che però ad oggi è un ingresso soltanto per un'operazione di capitale visto che la Multi Utility non agisce come prestatore di servizi nel nostro territorio in quanto noi siamo nell'ambito della Toscana del Sud che ad oggi non ha servizi gestiti direttamente dalla Multi Utility. La prima iniziativa è stato un convegno organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo nella sala consigliare mentre la seconda un dibattito pubblico promosso dal Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua, il Comitato Acqua Pubblica, Acli, Arci, CGL, Associazioni No Multi Utility e Riprendiamo il Comune all'Auditorium Maldoducci. Il primo convegno si è concentrato sulle prospettive e le opportunità di sviluppo dei servizi pubblici territoriali che potranno essere offerti dalla Multi Utility. La Multi Utility serve alla Toscana, una grande azienda da almeno 4-5 miliardi di fatturato capace di avere la sufficiente forza economica per sostenere i territori, per fare investimenti perché oggi gestire i servizi pubblici non è più un aspetto economico accessorio di sussistenza, oggi è occasione e motivo di sviluppo, è abilitante una grande azienda per i nostri territori, un'azienda che riversi gli interi dividendi e gli investimenti in casa propria. Diciamo che pericoli ci sono sempre quando si affrontano percorsi nuovi, l'importante è essere consapevoli di che percorso si vuole affrontare, quali sono gli obiettivi che ci si pone, qual è la strada che si vuole percorrere e soprattutto quali sono i compagni di avventura. Un'analisi critica sul progetto invece nel dibattito organizzato dai comitati. Ormai sono più di 20 anni che di volta in volta si richiamano all'economia di scala, quindi vuol dire che risparmieremo perché si farà un'unica testa in regione per distribuire i vari incarichi per le varie società di gestione che sarebbero sottostanti. Il problema è che fino adesso ogni volta che c'è stato un accorpamento o un'aggregazione sia degli Ato sia di ogni altro ente che era pubblico è diventato che non è cambiato niente per i cittadini, anzi sono aumentati i costi. Quindi anche questa volta noi vogliamo sapere con quale verità possono dimostrare che verranno ridotte le tariffe se fanno questa aggregazione. Qui non si sta parlando di una concessione, certo che i beni pubblici vengono dati in concessione ai privati, ma un conto è la concessione, cioè la possibilità di utilizzazione di questi beni per la gestione del servizio, un conto è la titolarità di questi beni.